Giusti Valte presenta una giornata dei soccorritori dell'Abetore, 19 gennaio 2017. Ciao, mi sono venuto a prendere, meno male, ciao. Ma mi ha detto Jacopo che ieri era, che mi ha detto? Perché poi mi ha detto 2000, non ci ho capito nulla, probabilmente vedrai che è quello, perché se era attaccato ora a me mi era venuto il dubbio che fosse staccata, capito? Siamo all'eresione, il paziente abita qui, qui stanno pulendo la strada, i mezzi sono tutti in lavoro, i mezzi del comune e dell'ANAS sono tutti in lavoro da tre giorni, per tenere la strada libera. Ci sono i camion qui che caricano la neve e la vanno a portare fuori dall'Abetore. qui si lavora, non si discute. Ormai questa gente è abituata a trattare la neve durante l'inverno. si lavora incessantemente giorno e notte, per tenere le strade pulite. Molti mezzi, è qui eh? Allora, ecco qua, siamo arrivati sulla piazza, che può fermare anche via. Siamo arrivati sulla piazza, andiamo a prendere il paziente, arrivederci a presto, Walter. Siamo arrivati sulla piazza, andiamo a prendere il paziente. A presto. Sì, sì. Siamo arrivati, eh? Di già? Sì. Si va al terzo piano. Come mai? Che sei davanti alla fotocellula. Qui? Mettiti di lato. Si sta andando un ambulatorio, eh? Tutto ok? Passi. Non ho bisogno della lungazza. No. Passi più. Sì. Sì. Missione compiuta. L'ordinaria rientra in sede. Signore e signori, amici, arrivederci. Ciao, saluto. Ciao. Prosti. Le scale è di casa mia. Siamo arrivati. Sì, queste sono le scale. Menomale le hanno pulite. Siamo arrivati. L'ordinaria è finita. Siamo arrivati a casa. Ora, una bella doccia calda. Signore e signori, arrivederci da Walter Giusti.